Io sono il vostro Oxcar e oggi c'è un nuovo video. Oggi, tu mi vedrete sotto in descrizione, faremo un canestro della Madonna. Abbiamo soltanto sette tentativi. Levati! No! Primo! Bariato, ancora sei tentativi! Partito? Sì. Ok, ora abbiamo ancora sei tentativi. No! Secondo canestro sbagliato! Per cinque tentativi! Sì! Vada, ce la dobbiamo fare! Terzo canestro sbagliato! Ora quattro tentativi! Madonna mia! Quattro tentativo! Sbagliato! Pepp! Quinto tentativo! E porca Giuda ragazzi! E pepp! Quattro tentativi! Tre tentativi! Ah! Quanti tentativi ancora? Uno! Ancora il tentativo! Sì! Sì! Raga! Catastro! Ho vinto! Hai vinto! Il video finisce qua. Lasciate sotto in descrizione almeno... Per questo video voglio almeno... Cento like! Ma che barba! Fai diecibilla! No! Cento like! Cento like! E se raggiungiamo i cento like faremo ancora un video! Ma che cosa è di Clash Royale? Ragazzi! Quando saremo all'incirca 1000 iscritti faremo la Clash Royale Challenge! Ossia la challenge di Clash Royale... Cioè lo inizieremo e faremo tipo dell'amichevoli... Cioè apriremo chest opening... Faremo chest opening con i bauli... Super magici, magici... Bauli giganti, bauli d'oro, bauli in omaggio... E tutti i bauli proveremo! Però l'importante è che superiamo i cento mila like per questo video e mille iscritti per il prossimo video! Ok! Che cazzo hai fatto? Cosa? Quasi!